va bene allora partiamo siamo ricapitolo molto brevemente quello che abbiamo cominciato a fare ieri quindi stiamo lavorando sulle applicazioni lineari e quindi vado a scrivere delle cose del tipo delle delle funzioni che vanno a lavorare su spazi vettoriali funzioni di tipo lineare questa è la forma generale per cui dico che f è un'applicazione lineare una funzione lineare se per qualunque coppia di scalari alfa e beta quindi appartenenti al campo dei reali per qualunque coppie di vettori v e w vengano ad e vale questa cosa quindi f di alfa di più beta w deve essere uguale a alfa f di b più beta w allora se la nostra applicazione funziona in questo modo quindi se filtra all'interno della della parentesi se vogliamo e quindi decompone va si può esprimere come sommatoria di due termini da questi due termini i termini sono ovviamente quello su alfa di e quello su beta w e a questi due termini l'alfa c'è lo scalare filtra fuori da f così come fa beta quindi otteniamo questa espressione qui scritta a destra allora diciamo che la funzione è lineare e se non ha altre specifiche non ha altre proprietà per esempio non è in generale nessun riettiva e neanche iniettiva la chiamiamo semplicemente omorfismo e all'insieme degli omorfismi si dà un simbolo questo om di e in g e quindi diciamo che la nostra f è appartenente all'insieme degli omorfismi ovvero è un omorfismo da e in g dopodiché se la funzione ad altre proprietà per esempio suriettiva diciamo che un epimorfismo se è iniettiva diciamo che un monomorfismo e se sia suriettiva che iniettiva cioè e bigliettiva in pratica quindi una corrispondenza bionivoca tra lo spazio vettoriale e lo spazio vettoriale g di fatto oltre a essere lineare allora diciamo che un isomorfismo dopodiché se consideriamo una sotto insieme di tutti i possibili omorfismi cioè consideriamo quelli che mandano un vettore di e in un vettore ancora di e quindi e g con spazio vettoriale g in questo caso coincide con e diciamo che f un endomorfismo quindi a simbolo and e quindi in questo caso la nostra f è un endomorfismo se un'applicazione lineare dopodiché se f anche iniettiva e suriettiva diciamo che un automorfismo un automorfismo di e in e allora abbiamo giocato un po sulla questione delle rappresentazioni di queste applicazioni lineari tutte le volte che parlo di rappresentazione intendo che si va a individuare una base su e particolare spaliamo facciamo riferimento adesso semplicemente gli endomorfismi lasciamo stare il caso più generale degli omomorfismi riferiamoci agli endomorfismi io vado a definire una base su e e questa base la uso non soltanto per rappresentare i vettori di e ma la uso anche per rappresentare i miei endomorfismi quindi come al solito avevo indicato una base che possiamo chiamare in questo modo a tutti gli a con i i che va da 1 ad n è nel numero di vettori della base e questo coincide con per definizione con la dimensione dello spazio vettoriale quindi è uguale a n significa che una sua base costituita da n vettori so che se ho definito la base posso definire una rappresentazione di un qualunque vettore di e quindi se prendo un certo vettore di qualunque vettore di di questo vi può essere espresso come combinazione lineare con certi coefficienti di questa base che ho scritto in questo modo usando la notazione di einstein o a j ma i semplicemente ok non è questa questo insieme di vicoli per i che va da 1 ad n è quello che viene chiamato rappresentazione del vettore v secondo la base a e naturalmente o posso avere infinite rappresentazioni di uno stesso vettore un altro spazio vettoriale perché nello stesso spazio vettoriale posso individuare in generale un numero infinito di basi quindi cambio la base cambia anche la rappresentazione del vettore allora questo discorso sulle rappresentazioni può trasferirsi pari pari con qualche differenza tecnica ma i concetti sono esattamente gli stessi sulle rappresentazioni delle f dell'applicazione lineare quindi se io prendo innanzitutto la mia f e la vado a fare agire sul vettore vi ottengo questa cosa quindi vi so già che è esprimibile così l'ho appena scritto sopra ma questa f un'applicazione lineare questo vi ricordo e implica una sommatoria non abbiamo due indici ripetuti in alto in basso quindi questo equivale una sommatoria di uno a uno più di due a due più v n ad n e quindi questo mi diventa di f di a con i quindi abbiamo questa scrittura che ci dice che possiamo esprimere f di v avendo specificato la base a nel momento in cui siamo in grado di assegnare un valore un risultato a ciascuno di questi f di a con i quindi dobbiamo conoscere per rappresentare f di v per calcolare f di v per ottenere il risultato che viene fuori dobbiamo conoscere qual è l'effetto degli f sui vettori della base e allora è qui che entra in gioco proprio la rappresentazione di f per cui facciamo f di a con i f di a con i è un vettore di e a con i un vettore di e ma f è una applicazione lineare che manda e in e quindi prende il vettore di m lo trasporta in e ancora perché appunto un endomorfismo e quindi se un vettore di e dovrà poter essere espresso come combinazione lineare dei vettori della base dei vettori della base a con i e questo è quindi identico una combinazione lineare con certi coefficienti allora chiamiamo questi coefficienti f j a con j quindi sto facendo una combinazione lineare dei vettori della base perciò ho una sommatoria a questo punto sugli indici j quindi ci sarà un f apice 1 a 1 f apice 2 a 2 eccetera fino a f apice l a con n e poi però o qui da questa parte a sinistra della scrittura o una con i quindi un simbolo che porta un indice a pedice che i e me lo devo ritrovare a destra esattamente nella stessa posizione quindi questi scalari dipenderanno da questo indice i a pedice l'indice libero come definito la nomenclatura ieri questi indici che non vengono sommati che non che non implicano una sommatoria si chiamano indici liberi mentre quelli che implicano sommatoria si chiamano gli indici muti e allora questi f j i sono quelli che vanno a costituire proprio la rappresentazione della mia f rispetto alla base a f j i con i e j che vanno tutti da 1 a n tutto perché è un endomorfismo e volendo come come ho già raccontato possono anche essere poi organizzati nella forma di una matrice che ho chiamato matrice f grande possiamo anche dare mettere f grande poi metterci in alto l'indicazione a c'è dire che questa matrice che la nostra rappresentazione della f e questa f questo endomorfismo questa non è uguale ma semplicemente correlata questa f a e la rappresentazione della f piccolo in pratica è una matrice di scalari costruiti in questo modo poi ieri ho fatto anche qualche considerazione poi ci torneremo oggi sul fatto che gli indici in alto questi j andranno a rappresentare gli indici corrispondenti alla riga quindi questi saranno gli indici di riga gli in basso invece saranno gli indici di colonna quindi quando voglio poi andare a organizzare gli f nella forma della matrice dovrò avere l'accortezza di far sì che questi appunto si riferiscano agli indici di riga i j mentre gli i si riferiscono agli indici di colonna per poi poter fare in maniera consistente quelli che sono i calcoli tipo matriciale ma in questa scrittura in realtà se rinuncio al formalismo matriciale non ho bisogno di specificare se sono indici di riga o di colonna semplicemente sono indici in alto e indici in basso che funzionano secondo le regole dettate dalla notazione di einstein quindi vabbè qui abbiamo la nostra matrice f di a adesso il discorso che voglio andare che abbiamo già iniziato ieri che rifaccio oggi è il discorso del cambiamento di base che avevamo già affrontato sulle semplici sui vettori sulle rappresentazioni di vettori per cui avevo spazio vettoriale e sullo spazio vettoriale posso definire per esempio due basi la base a che abbiamo già scritto prima ma la descrivo qui e la base b non so più a scrivere che gli indici vanno da 1 ad n supponiamo di avere uno spazio vettoriale di dimensione n quindi non sto tutte le volte a specificare il ranging per cui valiano gli indici e una base b diversa in cui abbiamo dei vettori b con i e il problema era innanzitutto vabbè connettere la base b con la base a quindi quando parliamo di cambiamento di base diciamo diamo due basi in generale potremmo darne anche più di due ma diciamo diamo due basi e poi una legge che le connetta quindi entrambe sono basi quindi so che per esempio b con i sono vettori di una base ma sono comunque vettori che appartengono ad e e a è una base quindi se questi sono b che appartengono ad e e a una base io posso esprimere i b con i ciascuno di questi b con i in funzione dei vettori della base a e viceversa ciascuno di questi vettori a con i deve poter essere espresso come combinazione lineare di vettori della base b appunto perché entrambi sono base perché anche b è una base allora noi normalmente scriviamo una cosa di questo gene scriviamo che ciascuno di questi b con i e una combinazione lineare di vettori della base a secondo certi coefficienti che avevo chiamato alfa poi ci metto gli indici a j quindi ho metto in relazione b con i con i vettori della base a quindi devo fare una combinazione lineare cioè una sommatoria perciò andrò a scrivere un alfa che ancora mi contiene l'indice j in alto in modo che si accoppi con l'indice a j in basso di a e quindi qui abbiamo la sommatoria su tutti i j e poi un indice i perché questo mi dà l'indice libero che corrisponde all'indice che ho sul vettore b con i e questo l'avevamo anche scritto in maniera matriciale andando a organizzare tutti i vettori b b1 bn in un vettore riga appunto sto dicendo che il mio spazio vettoriale ha dimensione n quindi ho n vettori della base b questo lo chiamo semplicemente b senza metterci altri segni simboli vicino quindi b e il vettore riga dei vettori della base b la stessa cosa per il vettore a che un vettore riga fatto da tutti i vettori della base a e questo mi consente di scrivere che b è uguale ad a per alfa prodotto riga per colonna dei vettori riga a per la matrice alfa mi da mi restituisce il vettore riga b quindi questo è una prima legge no che fa parte del cambiamento di base quando espressa in notazione matriciale ma non sto a rifare tutta la trattazione che ho già fatto un paio di lezioni fa veniva fuori che se lavoravano in questo modo prendevamo un qualunque vettore v questo poteva essere espresso come un vettore chiamiamolo via vettore colonna delle componenti del vettore v rispetto alla base a quindi organizzo il vettore colonna in questo modo e analogamente di sarà anche esprimibile con riferimento alla base b quindi chiamano vb e questo sarà un vettore colonna delle componenti della base b scriviamoci qui in alto a perché a riferimento alla base a qui ho vn esperimento alla base b e questo mi dice che partendo dall'espressione di uguale a alfa veniva fuori che vb è uguale ad alfa la meno 1 v a quindi se conosco la matrice alfa che mi fa passare da una base all'altra io so anche scrivere la relazione che mi lega le componenti del vettore v rispetto alla base b alle componenti del vettore a rispetto alla strada base il comprensivo vettore vi rispetto alla base a e questo lo faccio moltiplicando a sinistra e non a destra per la matrice alfa la meno 1 quindi l'inversa di alfa quindi abbiamo visto cosa succede ai vettori alle componenti dei vettori quando cambiamo la rappresentazione cioè quando cambiamo la base quello che dobbiamo vedere e ieri l'abbiamo fatto per metà e vedere che cosa succede quando noi appliciamo lo stesso discorso alle componenti di un endomorfismo quindi abbiamo il nostro endomorfismo e lo riscrivo f da e in e e abbiamo lo riscrivo qui per avercelo tutto sotto mano la legge che ci fa passare dalla base a alla base b quindi ho le mie due basi a e b non so scrivere e quello che vogliamo vedere che cosa succede al nostro alla nostro endomorfismo allora innanzitutto io posso applicare la mia f per esempio ai vettori della base b quindi prendo i b quindi prendo i b con i e vado ad applicare la mia f su uno di questi b con i quindi ne prendo uno dalla base b e ci vado applicare f sopra cosa succede beh questo b con i lo vado a esprimere in termini dei vettori a con j quindi avrà un f alfa j a con j ma questa è un'applicazione lineare un endomorfismo quindi l'applicazione lineare quindi quello che succede è esattamente questa cosa f di a con i quindi ho fatto filtrare nella sommatoria implicita da questo doppio da questo simbolo che si ripete j ho fatto filtrare la f e ho portato gli scalari fuori no per cosa per quello che è la attenzione qui c'è un errore qui c'è l'indice j così scriviamo faccio filtrare gli scalari fuori dalla f adesso qui entra in gioco la rappresentazione della f rispetto alla base a per cui posso scrivere questo è uguale ad alfa j i che vado a ripetere di scalari del tipo allora notate adesso devo fare una combinazione lineare di vettori della base a usando indici un indice che non è già presente in questa scrittura qui ho presenti gli indici i e j userò un indice diverso per esprimere la nuova sommatoria che viene fuori quindi farò una sommatoria su k a di k quindi ripeto l'indice k in alto qui e poi però in questa scrittura ho l'indice libero j qui dentro è libero diciamo in questa sommatoria però poi è vincolato da quest'altro indice j sopra l'alfa ma questo indice me lo devo ritrovare poi nella mia espressione quindi io mio j controllo che tutto sia consistente allora ho una doppia sommatoria su j vedete che j che si ripete in alto in basso un indice k che si ripete in alto in basso quindi questi sono indici muti scompaiono al termine del calcolo quello che mi rimane è l'indice libero i che mi ritrovo a destra ma poi me lo devo ritrovare anche a sinistra in questa posizione quindi quando scrivete un'espressione di questo genere guardatela dopo che l'avete scritta per rendervi conto di non aver fatto errori cioè di avere un match tra gli indici liberi a destra e sinistra e nella stessa posizione tra destra e sinistra dell'equazione e tutti gli altri indici devono essere indici muti adesso questo mi mette in gioco la rappresentazione della mia f rispetto alla base a adesso vogliamo lavorare sulla base b sulla rappresentazione rispetto alla base b quindi posso prendere f applicarlo ancora il vettore b con i solo che a questo punto faccio entrare in gioco proprio la rappresentazione rispetto alla base b della stessa f e ieri vi avevo detto che gli f rispetto alla base b li indicavo con degli scalari col tilde sopra quindi la notazione col tilde indica che io sto facendo riferimento per esempio scriviamo qui j i p j questo fa proprio riferimento alla mia rappresentazione della dell'endomorfismo f rispetto alla base b quindi vado a scrivere questa questa cosa che ho scritto qui la vado proprio a scrivere qui no questa è proprio la mia rappresentazione della della mia f rispetto alla base b quindi avrò un f tilde j j b j con i apedice quindi ho questa scrittura in cui metto appunto in gioco la rappresentazione rispetto alla base b ma adesso io questi b j che so esprimere rispetto alla base a secondo sempre una scrittura di questo genere però vedete che adesso vedete che adesso ho beh innanzitutto f tilde j i questi b j li posso esprimere come raccomando combinazione lineare dei vettori rispetto alla base a quindi avrò ancora degli alfa a e come indice di sommatoria non posso più usare il j in questa sommatoria che sarà sommatoria che coinvolge gli alfa e gli a perché il j l'ho già usato per esprimere quest'altra sommatoria quindi userò anche qui un indice diverso uso proprio il k quindi avrò un k qui e poi l'indice libero il b j quando non considero il fatto che ho un j anche qui ma guardo semplicemente questo b j questo b j me lo devo ritrovare sull'alfa allora ancora guardo la mia espressione vedo che ho i due indici muti j quindi questo è un sommatoria doppia l'indice j e indici k che spariscono al termine del calcolo e l'indice i che mi ritrovo in basso sia a destra che a sinistra e quindi almeno dal punto di vista degli indici tutto è consistente adesso io ho queste due equazioni espresse in maniera differente una mette in gioco la rappresentazione di f rispetto alla base a l'altra la rappresentazione di f rispetto alla base b ma questi esprimono queste due equazioni lo stesso vettore lo stesso vettore di e che fb di fb qui a sinistra abbiamo fb scritto entrambe le volte allora avrei la rappresentazione di un vettore scritto in due modi diversi ma poiché a k è una base cioè un sistema di vettori linearmente indipendenti so che per il teorema che abbiamo già dimostrato qualche lezione fa che la rappresentazione di un vettore in termini di vettori di una base è unica e questo implica che i coefficienti che compaiono qui dentro in questa espressione questa prima espressione coefficienti di a di k e i coefficienti che compaiono in questa seconda espressione ancora coefficienti di a di k devono essere uguali devono essere identici quindi avrò che per l'unicità appunto per la della della mia rappresentazione del vettore fb quindi avrò che f j i f tilde f j i alfa k j deve essere uguale ad alfa j i f k j ci torna questa dal punto di vista degli indici ci torna perché sia a destra che a sinistra abbiamo un indice muto j e poi due indiche quindi scompare al termine del calcolo e poi due indici liberi che sono il k lì il k è in alto a destra e in alto a sinistra lì e in basso a sinistra e in basso anche a destra e quindi dal punto di vista degli indici il tutto torna adesso vedete che da questa parte abbiamo f tilde moltiplicata per un'alfa e dall'altra parte abbiamo un'alfa moltiplicata per l'alfa noi vogliamo ottenere un f tilde da sola senza la moltiplicazione per alfa quindi dobbiamo essere in grado di isolare di risolvere questa equazione che poi di fatto è un'equazione matriciale in termini di f tilde allora faccio il trucco sul trucco che abbiamo già usato una volta quindi prendo la mia f tilde j i più che questo la mia espressione a sinistra k j e vado a moltiplicarla per una scalare beta che chiamiamo beta qui attribuisco degli indici allora vedete che quello che voglio fare è accoppiare questo beta che sarà poi uno scalare che avrà due indici con alfa e voglio fare poi una combinazione lineare che poi sarà equivalente a un prodotto matriciale riga per colonna della matrice alfa per la matrice beta ma appunto il punto è che voglio costruire una combinazione lineare di prodotti alfa per beta e questo quindi lo posso fare attribuendo un indice k a pedice che è un indice libero quindi era un indice libero ed è l'unico indice su cui posso pensare di sommare no io potrei pensare di sommare sull'indice j e quindi mettere un beta j con un j in alto in questa posizione ma in realtà non è corretto una cosa del genere perché il j è già copiato col j sulla f tilde quindi l'unico indice che mi rimane libero per fare poi una sommatoria è il k che sta in alto e quindi lo moltiplicherò per un beta k e il beta avrà un porterà un secondo indice che chiamo l un indice differente a tutti quelli che ho già o i j k e ci metto un beta l k questo ha lo scopo poi di ottenere poi un delta di kronecker nel prodotto di questo con questo ma questo lo discuto fra un attimo allora se ho moltiplicato per beta l k a sinistra devo moltiplicare per beta l k anche a destra e quindi avrò un alfa j i f k j e poi pari pari il beta l k piccola digressione sui nomi che si danno gli indici vedete che io uso sempre dei nomi i j k l qualche oltre a qualche altro indice per indicare appunto gli indici e uso altre lettere per indicare gli endomorfismi f eccetera e f minuscole e maiuscole lettere greche per indicare degli scalari ma in particolare il fatto di usare i j k l una cosa che troverete sempre in tutti i corsi che fanno uso di matematica di algebra lineare e non è un caso perché questa è una ragione storica no e voi sapete poco avete visto magari qualche cosa di programmazione per esempio nel corso di calcolo numerico però se avete usato qualche piattaforma di calcolo potrebbe essere maple oppure non so cosa cosa abbiate usato octaves e la piattaforma libera e corrispondente al maple e cose del genere o matlab no octave la piattaforma libera quella che potete scaricare da internet che fa riferimento diciamo al matlab codice matlab che invece è pagamento anche se ci sono poi le versioni per gli studenti poi ci sono altri linguaggi di programmazione ancora migliori rispetto a octave o cose del genere che sono per esempio il python python è una piattaforma di programmazione un linguaggio di programmazione che è sviluppato già a partire degli anni 90 che ormai è diventato estesissimo e che tra l'altro vi consiglio quando avete tempo di cominciare a studiare imparare perché è utilissimo poi nell'applicazione quando poi più avanti negli anni non tanto avanti diciamo già a livello di tesi dovrete risolvere dei problemi che non sono soltanto problemi di laboratorio ma sono proprio di analisi dei dati o cose del genere dovete molto spesso essere in grado di trattare i vostri dati di scrivere quindi dei programmi che lo facciano e bene che abbiate già sotto mano abbiate già imparato usare un qualche sistema di calcolo perché altrimenti avrete il doppio problema di risolvere il vostro problema che vi è stato assegnato che avete dovete risolvere per la tesi e il problema anche di imparare usare lo strumento informatico che si serve per risolvere quel problema e la cosa si fa tra virgolette drammatica quando uno poi va a lavorare in un'azienda e dal venerdì a lunedì dicono che deve risolvere una certa questione e a quel punto se non ha nessuno strumento informatico per poter maneggiare dei dati o applicare appunto degli algoritmi per risolvere i problemi e si trova un po' nei guai perché a quel punto non sa tanto come fare ad operare vi dovete un po' affrancare liberare dalla schiavitù dei programmi scritti da altri esistono programmi per fare un po' tutto però sappiate che i programmi che scrivono gli altri al 90 per cento dei casi non vanno esattamente bene per fare le cose che volete che voi che i programmi facciano per fare le cose che servono a voi e quindi magari non abbia non avete la necessità di scrivere un programma ex novo ma avete la necessità molto spesso di prendere un programma e scritto da qualcun altro in un qualche linguaggio e adattarlo ma per questo e quindi cambiarlo modificarlo negli aspetti che interessa per questo dovete essere in grado di saperlo fare perciò dico il consiglio che vi do è di imparare a programmare un minimo può fare la differenza tra voi e altre che invece non lo sanno fare e fa la differenza significa poi accedere a posto di lavoro piuttosto che invece rimanere a piedi va bene detto questo ci sono questi sistemi di programmazione e più o meno avanzati anche abbastanza sofisticati ma storicamente il campo campo scientifico uno dei programmi uno dei linguaggi di programmazione più usati per risolvere problemi fare anche i grossi programmi e il fortran che l'acronimo di formula translation un programma un linguaggio di programmazione nato gli anni 50 gli anni 60 forse che è stato usato per tantissimi anni e sono state scritte librerie librerie immense di di programmi che fanno che fanno un po di tutto dal punto di vista scientifico poi in informatica gli informatici hanno inventato altri linguaggi di programmazione per esempio c c++ e cose del genere e hanno sempre un po criticato il fortran perché almeno nelle versioni più vecchie perché non rispetta certi standard che invece piacciono molto agli informatici hanno anche le loro ragioni informatici il problema è che ormai tante tanti programmi tante librerie erano già state scritte in fortran e quindi chi è nato col fortran poi difficilmente ha cambiato il linguaggio e ha continuato a programmare in quel linguaggio ora il punto è che in nel fortran così come anche in altri linguaggi ma soprattutto nel fortran esistevano delle convenzioni che poi sono state standardizzate e quindi usate invariabilmente in maniera implicita che distinguevano beh innanzitutto in un linguaggio di programmazione si tende sempre a distinguere il tipo di numeri con cui si ha a che fare quando gli si assegna delle variabili se io devo per esempio trattare con un numero reale e voglio assegnargli una variabile scriverò per esempio una istruzione del tipo a poi scrivo questo poi cancello queste cose che non hanno a che fare con i nostri cani a uguale un certo numero reale per esempio 3.14 inoltre il pi greco lo assegno ad una variabile questa variabile è una variabile tipo reale nel senso che ammette un numero che sia semplicemente rappresentato con una virgola quindi tre punto qualche qualche cosa 3.14 quando invece ha a che fare con dei numeri interi lo assegno una variabile a cui assegno un nome e normalmente implicitamente i nomi assegnati a variabili che devono trattare di numeri interi sono nomi del tipo i, j, k, l poi anche m, n eccetera fino a qui allora normalmente nel fortran così come anche in altri linguaggi le variabili i, j, k, l, m ed n sono associate a dei numeri che sono interi quindi per esempio j uguale 4 questo lo posso usare questo indice per esempio per andare ad estrarre dei valori che sono all'interno di un array un array o una di fatto una matrice no supponiamo di aver creato un array a e ci metto tra parentesi un indice j che sarà per a con j che va ed ha un certo valore intero un altro valore intero quindi avrò un a1 un a2 eccetera eccetera fino a un a n questo mi identifica proprio i numeri reali che sono salvati all'interno dalla posizione 1 2 3 4 eccetera fino alla posizione ennesima no e allora è chiaro che poiché questi 1 2 n eccetera indicano posizione all'interno di un array devono essere numeri interi e quindi gli assegno una variabile che l'indicizza tutti che deve essere una variabile indicizzata con uno di questi di queste variabili jkl eccetera eccetera allora il fatto di usare indici con questi simboli ijkl è proprio un riflesso è un'abitudine che chiunque abbia lavorato un minimo con i linguaggi di programmazione a nel sangue nel senso che a me non vorrebbe mai di chiamare a o b un indice di una matrice perché l'indice deve essere un numero intero è così come non sono io che mi comporto così tutti invariabilmente si comportano così e quindi troverete se quando ne in un'espressione algebrica di questo genere in algebra lineare o in algebra generale più in generale algebra trucur trovate dei simboli del tipo jkl eccetera al 99.9 per cento dei casi si tratta di gli oggetti che sono dei numeri interi fanno riferimento dei numeri interi va bene detto questo cancelliamo questa roba qui che adesso era giusto una digressione sui nomi può tornare utile perché per noi che facciamo questo mestiere da una vita e naturale vedere queste espressioni interpretarle all'istante per voi che siete studenti che non ha mai visto probabilmente delle cose del genere non è altrettanto naturale quindi fate caso come vengono scritte le cose i simboli che vengono dati perché questo vi aiuta poi nell'interpretazione stessa dei simboli che vedete allora ho detto ho moltiplicato per questi beta e voglio far scelgo i beta in modo tale che quando vado a moltiplicare e fare queste somme quindi spesso moltiplicare i termini beta e alfa e poi sommare assieme in questa combinazione lineare il risultato sia un delta un delta di kronecker poi l'ho già detto l'altra volta ma lo ripeto questa volta che deve avere due indici e leggei allora innanzitutto isolate questi due termini dimenticatevi per adesso delle fetille non guardate semplicemente questi due termini vedete che questi hanno un indice muto il k che poi sparisce al termine della sommatoria l'indice della sommatoria e poi due indici liberi che sono l e j quindi quando faccio la sommatoria il k al termine scompare saturo su k quelli che mi rimangono sono i due indici l e j in alto e in basso perciò il numero che viene fuori da questo prodotto deve portare due indici l e j in alto e in basso per essere consistente con questa scrittura e quello che voglio fare è appunto farsi scegliere i beta in modo tale che questo prodotto sia il delta di kronecker cioè quel numero che vale 1 se l uguale j e 0 se invece l diverso da j quindi cosa succede in questo caso succede che al posto di f j tilde i delta lg e delta lg vedete che quello che viene fuori è una sommatoria adesso questo indice j o l'indice muto perché vado a si dice anche contrarlo ma poi il termine contrazione lo usiamo oggi ma più avanti se ci arriva vado a sommarlo diciamo usiamo pure il termine contrario cominciamo a usare questo tempo questa terminologia che poi useremo più avanti con l'indice j che sta sulle f tilde e quindi diventa una sommatoria semplice di di questi prodotti f tilde per delta quindi è una sommatoria perciò a un certo punto devo devo sommare adesso lo faccio in modo esplicito per un po di termini per così capite bene che cosa succede avrò questo cosa vorrà dire f tilde 1 i delta l1 più lo scrivo ancora f2 i delta l2 più ci sarà un termine in cui l'indice della sommatoria j equivale all'indice l sono tutti e due indici che vanno da 1 ad n perciò nella mia sommatoria a un certo punto incrocerò un termine in cui avrò un f l i delta l l in cui l'indice 2 l'indice j equivale proprio a l più ci sarà poi fino all'ultimo termine f tilde n i delta l l quindi quando vado a espandere questa scrittura andando a esplicitare i singoli termini facendo quindi cambiare il mio indice j da 1 ad n ci sarà un termine in cui l'indice equivale proprio ad l e tutti gli altri termini in cui invece l'indice non equivale ad l ma tutti questi termini in cui l'indice j non è uguale a l sono tutti 0 perché questi sono dei delta di kronecker che è un simbolo che vale 0 quando l è diverso da j invece 1 quando l è uguale a j quindi questi termini qui vanno tutti via tranne questo in cui il delta l l è proprio 1 e quindi il tutto risulta semplicemente f tilde l perché appunto un l qui vedete che delta l l ma qui un l anche qui che aveva lo stesso indice j che è uguale a l è delta l f tilde f l ok quindi con questo trucco di aver scelto i beta in modo tale che il loro prodotto e la loro combinazione lineare di questi prodotti con gli alfa mi dia il delta di kronecker faccio il modo di ottenere di aver fatto scomparire questo prodotto qui da questa parte avrò ridotto al numero 1 e avere tutto quello che rimane cioè semplicemente la f tilde con due indici l e di e tutto questo adesso vado a scrivermi l'espressione che avevo già scritto qui quindi questa roba qui deve essere uguale a questo e quindi tutto sarà uguale ad alfa j i f k j beta lk allora guardiamo come di consueto questa scrittura e verifichiamo che sia consistente con ciò che è scritto a sinistra allora abbiamo due indici j quindi indici muti si ripete in alto in basso due indici k quindi indici muti anche loro devono scomparire una volta che abbia saturato cioè abbia fatto le sommatorie e quelli che mi rimangono sono due indici l ed i indici liberi che ho a destra quindi devo avere anche a sinistra nella stessa posizione ed è proprio così infatti qui a sinistra l'indice l in alto e ce l'ho anche a destra qui a sinistra l'indice i in basso ce l'ho anche da questa parte allora vedete che sono riuscito a scrivere un'espressione in cui metto in relazione usando la matrice alfa poi adesso torniamo un attimo sulla beta ma diciamo usando la alfa e la beta mettere in relazione le f che sono ve lo ricordo le componenti che rappresentano l'endomorfismo f nella rispetto alla base a con le f tilde che sono le componenti che descrivono l'endomorfismo che rappresentano l'endomorfismo f rispetto alla base b quindi è l'espressione che voi che volevamo che volevamo ottenere una parola su queste beta allora queste beta guardate qui questa avete riscrivo un attimo l'espressione alfa k j beta lk uguale a delta come ho detto lj non sommiamo sui k che cosa cosa ci dice questo ve l'ho già fatto vedere una volta ve lo ripeto perché vi sia vi sia chiaro questa l'espressione che avete a sinistra corrisponde al prodotto riga per colonna della matrice alfa per la matrice beta quindi se organizzate alfa e beta questi scalari in forma di matrici questo vi diventa l'elemento poi ve lo faccio vedere più esplicitamente ma vi diventa l'elemento lj del prodotto riga per colonna della matrice alfa per la matrice beta non ci credete proviamo no proviamo facciamo lasciamo j ed l indicati così come sono no e qui abbiamo un indice k che dice sommatori avete alfa 1 j beta l1 più alfa 2 j beta l2 più eccetera più l'ultimo termine che sarà alfa n j beta ln e se voi organizzate la vostra matrice alfa quindi avete la vostra alfa 11 detto che l'indice che sta sopra l'indice di riga no come avevamo discusso già ieri e quindi qui l'indice di riga sulla prima riga rimane costante quindi questo sarà alfa 12 questo sarà alfa 1 n e qui sotto avremo l'indice n 1 alfa n 2 alfa n n quando andate a moltiplicarlo per la beta per la beta vale esattamente lo stesso gioco avrete alfa termino 1 beta 1 2 beta 1 n e qui da quest'altra parte sulla vita n 1 beta n 2 beta n n quindi se prendete una riga per esempio vedete la prima riga della matrice alfa e la prima colonna vedete che l'indice che sta in alto è sempre l'1 e l'indice che sta in basso è quello che cambia lungo la lungo la sommatoria allora questo è il prodotto allora chiedo a voi questo secondo voi scritto così è il prodotto alfa beta o il prodotto beta alfa guardate bene questa scrittura sto facendo variare l'indice k e quindi qui abbiamo alfa con l'indice in alto che cambia 1 2 fino a n e l'indice in basso rimane costante da quest'altra parte e l'indice in basso che cambia della beta e l'indice in alto rimane costante guardate cosa succede se io faccio questo prodotto riga per colonna prima riga prima colonna o che l'indice in alto cambia e l'indice in basso varia sull'alfano e da quest'altra parte invece mi cambia l'indice in alto perché io faccio il prodotto di questa riga con prodotti questa colonna dove quello che cambia l'indice in alto ma qui l'indice in alto invece in questa scrittura lo vedo sempre costante e allora che cosa cosa vuol dire vuol dire che in realtà l'ho fatto apposta attenzione quando scrivete queste espressioni fate attenzione non tanto nell'espressione che ottenete scritta in termini connotazioni di Einstein ma quando volete tradurre in termini di formalismo matriciale quindi far tornare queste cose organizzando le matrici fate attenzione a quello che fate come scrivete le cose perché in realtà era e probabilmente la cosa corretta da fare era di scambiare i termini alfa e beta e di commutarli e quindi scrivere anziché quella scrittura di scrivere beta lk alfa k j allora se fate questo e organizzato in tutto in forma di matrice avete beta 1 1 da moltiplicare anzi facciamo così scriviamo in maniera esplicite in questo modo questo è beta l che rimane 1 alfa 1 j più beta l 2 alfa 2 j più più beta l n alfa 2 j più più beta l n alfa 2 j più più e se voi andate a permutare a commutare la matrice beta con la matrice alfa e quindi anziché scrivere alfa beta jl scrivete beta alfa l j quindi fate il prodotto riga per colonna della matrice beta per la matrice alfa e esplicitate quindi per esempio la prima riga e la prima colonna ottenete proprio questa scrittura ottenete proprio la scrittura corretta questa qui in cui quello che vi cambia e l'indice di di colonna della prima colonna e poi è lasciata fisso l'indice di riga per la per la beta e viceversa dall'altra parte quello che vi cambia e l'indice in alto che l'indice di riga e l'indice di colonna che in basso rimane costante quindi questa scrittura in cui io posso andare perché alfa e beta sono semplicemente scalare in questa scrittura non sono matrici sono gli elementi delle matrici posso sempre andarli a commutare posso scrivere sempre il beta prima dell'alfa questa io la posso quindi interpretare come il prodotto riga per colonna non della matrice alfa per la matrice beta ma il prodotto della matrice beta per la matrice alfa di indici il prodotto di e che il prodotto della della riga l per la colonna j e questo è il mio delta l j non so se avete capito il discorso che ho fatto ma provate a caso non ve lo faccio io perché provate voi imparate di più a a fare il prodotto di questa matrice la matrice beta per la matrice alfa e verificate che quello che ottenete esattamente la scrittura che ho scritto io che ho messo qui e quindi poi per viene fuori che nient'altro che questo 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 prodotto scritto in questo modo non è nient'altro che l'elemento e leggei l colonna j delle matrici a beta alfa allora questo è uguale a delta l j per come ho definito i beta ma quando scrivo l'intera matrice e cominciamo con la matrice delta l'intera matrice che corrisponde ai ai miei delta di kronecker questa sarà semplicemente la matrice identica non la matrice delta l j per tutti i j ed l da 1 ad n corrisponde alla matrice che chiamiamo la matrice identica quella che ha 1 sulla diagonale principale e 0 altrove infatti soltanto gli elementi che hanno l'indice di riga uguale all'indice di colonna quindi soltanto gli elementi per cui l è uguale a j o viceversa j uguale a l valgono 1 per via del delta di kronecker e tutti gli altri valgono 0 appunto perché il delta di kronecker funziona in questo modo d'altra parte questo beta alfa lj quando lo organizzate in forma di matrice cioè andate a considerare tutti i possibili lj non è nient'altro che il prodotto della matrice beta per la matrice alfa e quindi avete che complessivamente beta per alfa è uguale all'identità il che vuol dire che il beta è l'alfa alla meno 1 quindi la matrice beta è l'inversa della matrice alfa quindi scriviamo questa questa espressione in alto f tilde avevo un l non ne ricordo più f questo non c'è niente diciamo così vediamo se riesco a fare qualche cosa del tipo selezionato questa ok usare la pelle prendo tutto questo ok lo copio l'ho copiato mi riporto qui da qualche parte vediamo se c'è un paste fantastico siamo riusciti a fare questa operazione allora questa qui questa scrittura la descrivo adesso semplicemente a tenuto conto che il beta è la matrice corrisponde all'alfa alla meno 1 quindi questo diventa allora riscrivo tutto questo tenuto conto che il beta appunto corrisponde alla matrice inversa quindi questo la sarà la scriviamo ancora alfa j i fk j alfa alla meno 1 di indici lk allora questo voglio dare una scrittura matriciale voglio interpretare questo come come matrice e quindi scrivere quella che è la mia matrice f di b che è proprio se vi ricordate la matrice e cui elementi sono questi f tilde e lg attenzione questo sembrerebbe che potremmo scriverlo come alfa matrice alfa per f a per alfa alla meno 1 ma non è così non è così per lo stesso discorso che abbiamo trovato qui no in cui dobbiamo fare attenzione a come eh scriviamo questi termini in che ordine scriviamo questi termini perché vedete che di nuovo io qui ho un j in alto e un j in basso il j è l'indice di riga invece noi vogliamo far sì che eh quando scriviamo il tutto in notazione matriciale ciò che ehm sia usato come come indice di sommatoria non sia la riga non sia l'indice di riga ma sia l'indice di colonna quindi l'indice di colonna è in basso e e l'indice su cui sommiamo è j in questo caso quindi quando scrivere eh scrivessimo questo come alfa per f per alfa alla meno 1 lo sbaglieremo perché questo non corrisponderebbe affatto a questa ehm eh scrittura quello che devo fare è scambiare ehm l'alfa con l'alfa alla meno 1 quindi questo io la posso riscrivere come ripeto questi alfa j i alfa lk fk j sono scalari quindi commutano tra loro sono numeri che commutano tra loro e quindi posso scrivere alfa alla meno 1 k lk fk j alfa j i quindi ho scambiato alfa alla meno 1 con eh con alfa e adesso torna perché scritto in questo modo l'indice che rimane in questo prodotto di matrice alfa alla meno 1 per f ehm l'indice che cambia è l'indice di colonna qui e l'indice di riga qui ci va bene proprio quello che vogliamo per fare questo questo prodotto in modo corretto riga per colonna no? e da quest'altra parte la stessa cosa qui abbiamo un j un j qui è indice di colonna e qui è indice di riga e quindi stiamo accoppiando correttamente l'indice di colonna con l'indice di riga secondo quello che il prodotto riga per colonna quindi scritto in questo modo riconosciamo immediatamente questo punto che questo non è nient'altro che il prodotto alfa meno 1 per la matrice che rappresenta ehm il mio edomorfismo eh rispetto alla base a quindi quello che ho chiamato fa per alfa questa va aggiunta a quelle espressioni che avevamo b uguale a per alfa vb è uguale a ehm alfa la meno 1 v a quindi queste tre sono le tre leggi che ci servono per il cambiamento di base no? quindi abbiamo ricordo una matrice alfa che è quella che ci fa passare dalla base a alla base b la alfa la meno 1 ci fa passare dalle componenti del vettore di un vettore generico rispetto espresso rispetto alla base a alle componenti dello stesso vettore rispetto alla base b questi b sono eh vettori colonna e la stessa alfa sia l'alfa sia la sua inversa alfa la meno 1 scritte in quest'ordine ci fanno passare dalla eh matrice eh rappresentativa dell'endomorfismo a f rispetto alla base a alla matrice rappresentativa dello stesso endomorfismo rispetto alla base b tra l'altro su questa la scrittura sull'ultima possiamo anche ottenere poi ci servirà tra poco in un esercizio v a in funzione di vb semplicemente moltiplicando a sinistra per alfa questo sarà v v b se voi moltiplicate a sinistra questa equazione per alfa avete alfa v b uguale a alfa per alfa la meno 1 v a ma alfa per alfa la meno 1 è la matrice identica e quando andate a moltiplicare per il vettore b a vi da semplicemente il vettore b a va bene adesso tutto questo lo diamo a usare per un esercizio che riprendo un po' l'esercizio che avevamo già un esempio che avevamo già fatto eh qualche giorno fa relativamente un cambiamento di base e quindi prendiamo per esempio un certo vettore a2 e un vettore a1 e poi girato definiamo a la gomma ok definiamo una quindi abbiamo una base a la riscrivo qui che è fatta dai miei vettori a 1 e 2 siamo in uno spazio vettoriale bidimensionale lo spazio dei segmenti orientati del piano e poi usiamo una seconda base definiamo una seconda base che chiamiamo b b1 b2 in cui faccio coincidere b2 con a2 quindi non cambio il vettore a2 lo rendo semplicemente uguale a b2 mentre invece b1 è questo vettore e dico quindi che b1 è uguale al vettore a1 più a2 e b2 uguale ad a2 quindi passo da una base a una base b dove i vettori b sono definiti interni dei vettori della base a attraverso queste espressioni allora come già ho fatto l'altra volta vi faccio notare che scrivere che b2 uguale a 2 vuole anche dire che b2 uguale a 0 per a1 più 1 per a2 e qui banalmente b1 sarà a1 per a1 più 1 per a2 esattamente la stessa la stessa cosa non sono due identità allora questo lo ho scritto in questo modo per mettere in evidenza quelli che devono essere i coefficienti della matrice alfa del cambiamento di base e se voi scrivete la alfa come matrice 1 0 1 1 vedete che dovrebbe funzionare proprio così vediamo se è vero allora prendete il vettore riga delle componenti il vettore riga costituito dai due vettori b1 e b2 b1 e b2 e a1 a2 quindi il vettore riga che organizza i vettori della base a la moltiplichiamo per alfa e quando fate questo prodotto riga per colonna avete che b1 è uguale al prodotto riga per colonna di questa matrice quindi prima riga prima cioè unica prima e unica riga del vettore a per la prima colonna e quindi sarà a1 più a2 perché a1 per 1 più a2 per 1 vi dà proprio queste espressioni qui quindi a1 più a2 mentre b2 sarà il prodotto della riga a1 a2 per la seconda colonna della matrice alfa e quindi vira fuori a1 per 0 in questo termine qui più 1 per a2 e quindi avete esattamente la vostra definizione di b1 e b2 e avete individuato quale deve essere la matrice alfa del cambiamento di base e abbiamo anche l'alfa alla meno 1 e l'altra volta abbiamo invertito l'alfa vi ricordate il discorso che abbiamo fatto per invertire l'alfa cosa fate? prendete il determinante di alfa che è uguale a 1 ne fate il reciproco poi prendete la matrice alfa medesima ne fate la trasposta e poi costruite il minore complementare della matrice alfa trasposta dividendo poi per il determinante che è semplicemente 1 e ottenete la matrice inversa l'algoritmo che vi consente di passare dalla matrice alla sua inversa viceversa potete verificare che alfa per alfa meno 1 non è proprio l'identità prendete la prima riga per la prima riga di questo vi dà 1 la prima riga per la seconda colonna vi dà 0 la seconda riga per la prima colonna vi dà anche 0 e uno vi dà la seconda riga per la seconda colonna quindi alfa per alfa la meno 1 l'identità e in questo modo verificate che sia tutto corretto che l'inversa che avete fatto sia corretto adesso prendiamo una una f un endomorfismo che facciamo corrispondere a una qualche operazione che facciamo sui nostri vettori per esempio prendiamo torno a disegnare qui i miei due vettori a 1 e a 2 e consideriamo una f prendiamo un vettore v per esempio che sia uguale semplicemente dico che v è uguale al vettore a però per adesso non preoccupiamoci di quanto vale v sappiamo che per fare agire una qualunque f cioè la nostra f su un qualunque vettore v e alla fine quello che dobbiamo conoscere è l'effetto della f sui vettori della base quindi f a 1 e f a 2 se conosciamo l'effetto della f sui vettori della base conosciamo l'effetto della f su qualunque vettore v dello spazio vettoriale allora scriviamo questo inventiamo questo nostro endomorfismo in modo tale che f di a 1 sia uguale a meno a 2 e f di a 2 sia uguale semplicemente ad a 1 quindi cosa succede? che io prendo il mio vettore a 1 e lo trasporto in meno a 2 che cos'è meno a 2? allora andiamo a vederlo sul grafico sul diagramma che facciamo qui questo qui sarà il vettore meno a 2 il reciproco è l'inverso di a 2 a 1 a 2 più meno a 2 mi darà il vettore nullo e a 2 invece finisce su a 1 quindi cosa ho fatto? di fatto ho preso a 1 e l'ho ruotato di 90 gradi di pi greco mezzi e l'ho trasportato in meno a 2 e la stessa cosa l'ho fatto su a 2 ho ruotato il vettore a 2 di 90 gradi e sono finito su a 1 quindi questa f coincide di fatto con una rotazione di 90 gradi dei miei vettori del piano del mio spazio vettoriale dei segmenti orientati del piano quindi abbiamo rappresentato un'operazione di rotazione in senso anti-orario facciamo caso a questo in senso anti-orario del nostro sistema di vettori e quello che per esempio potremmo utilizzare per rappresentare le simmetrie del quadrato il quadrato invariante rispetto a rotazione di 90 gradi di pi greco mezzi come possiamo rappresentare questo in uno spazio vettoriale è attraverso una f che funzioni proprio in questo modo che vada a prendermi i miei vettori mi trasformano in questo modo adesso diamogli la forma matriciale quindi scriviamo la matrice F A corrispondente a queste scritture allora io adesso la scrivo poi la commento la nostra matrice è una matrice che funziona in questo modo è una matrice fatta così che prende un vettore è proprio per esempio il vettore V che ho chiamato ad A2 allora il vettore V che è il vettore V che cosa fa? cos'è il vettore V? in componenti dato in componenti rispetto alla base A sarà il vettore di componenti 0,1 ricordate che i vettori a parte i vettori della base ma i vettori V generici li posso esprimere come vettori colonna e le cui componenti sono proprio le componenti rispetto alla base A questo è il vettore V non è nient'altro che il vettore V è il vettore 0,1 più 1,2 il vettore V uguale a 2 vuol dire 0,1 più 1,2 cioè le sue componenti rispetto alla base A sono 0 relativamente al vettore A1 quindi la prima componente è 0 la seconda componente è 1 quella relativa al vettore della base A2 quindi abbiamo le sue componenti che sono queste allora avevamo visto anche ieri probabilmente che cosa voleva dire fare l'operazione FV in termini matriciali se non ci ricordiamo lo rifacciamo questo equivale a dire FV con I A con I voglio scrivere cosa che A con I in combinazione lineare del mio vettore del mio vettore della base questo diventa V con I F di A con I ma questi cosa sono D con I F J A J I e quindi vuol dire che il mio vettore che posso chiamare che sono vettore W scriviamo lì scriviamo sotto che il mio vettore W che è proprio l'effetto dell'applicazione di F a V quindi ancora un vettore di E che posso anche scrivere come W J espresso rispetto alla base A W J A con J mi porta a dire che i miei W J sono scrivo prima gli F J I V con I e vedete che ho scritto prima gli F i componenti di F e poi V apposta perché voglio dargli poi un'interpretazione matriciale in cui l'indice che cambia a sinistra deve essere l'indice di colonna mentre l'indice di riga rimane costante il J questo J è sempre l'indice di riga e questo è l'indice di colonna che cambia il che significa che questo quando lo traduco in termini matriciali mi da W1 W2 semplicemente W1 W2 perché è uno spazio di due dimensioni sarà F1 F1 F2 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 della matrice F per il vettore colonna degli F quindi W il mio vettore colonna W sarà semplicemente F la mia F di A rispetto alla base A per V dove tutti questi sono vettori di A vettori riferiti alla base A quindi facciamo questo prodotto abbiamo F che equivale a 0 meno 1 1 0 lo moltiplichiamo per il vettore 0 1 che è il nostro vettore di A e questo ci porta a prima riga per la colonna 0 per 0 che ovviamente da 0 più meno 1 per 1 quindi avremo meno 1 e poi avremo 1 per 0 quindi seconda riga qui per questa colonna sarà 1 per 0 più 0 per 1 e quindi 0 ma che quando diamo tutto questo riscriviamo reinterpretiamo questo questo sarà il mio vettore W cosa sarà meno 1 A1 perché questa meno 1 è proprio la componente del vettore W rispetto alla base A quindi meno 1 A1 più 0 per A2 non più 0 per A2 cioè proprio il vettore meno A1 quindi questa matrice vedete che io mi ha consentito di passare dal vettore W al vettore W e quando vado a scrivere in termini non in componenti ma in termini di vettore assoluto avrò che il mio FV cioè il vettore di fatto F di A2 va in in questa posizione ok qui ho scritto meno A2 perché è l'inverso dove è la gomma ok ho cancellato troppo e di fatto in questa base su una base quadrata il vettore A1 cosigno meno è proprio l'inverso di A2 ma di fatto quello che ho fatto è trasportare il vettore A1 nel vettore meno A1 ah no cosa ho l'errore non mi avete non mi avete avvertito attenzione questo era il vettore A2 quello che avevo chiamato A2 e questo era il vettore A1 perché adesso è più consistente c'era un errore come avevo dato i nomi ai miei vettori questo era quello che avevo chiamato A2 e questo è quello che avevo chiamato A1 quindi applico F su A2 e ottengo meno A1 che è proprio l'inverso di A1 e qui è quello che vedono applico la mia F sul vettore A2 che è quello di componenti 0,1 ottengo il vettore meno A1 proprio quello che avevamo visto graficamente adesso voglio questo era diciamo il giochetto in cui ho espresso il tutto rispetto alla base A adesso voglio vedere se tutto funziona anche con riferimento alla base B allora innanzitutto per fare questo gioco cosa dovrò fare beh innanzitutto dovrò calcolarmi WB WB sarà FB VB quindi riscrivo esattamente la stessa equazione la stessa equazione W uguale F di B ma anziché rappresentarla in termini della base A quindi che ci portava a W A la riscrivo un attimo uguale a F di A V A la voglio scrivere tutta con riferimento alla base B e allora avrò bisogno di VB ma ce l'ho già lo calcoliamo molto rapidamente VB sarà il vettore di componenti anche lui 0,1 perché per ottenere VB cosa dovete fare? dovete prendere VA e moltiplicarlo per alfa la meno 1 quindi VB verifichiamo che venga proprio questo 0,1 VB sarà la mia alfa la meno 1 VA ma alfa la meno 1 era la matrice 1,0 meno 1,1 per VA che era il vettore in componenti 0,1 rispetto alla base A ma questo è il vettore colonna la prima riga per quindi di 1,0 per 0,1 mi dà ancora 0 e la seconda colonna la seconda riga per la colonna 0,1 mi dà meno 1 per 0 quindi 0 più 1 per 1 quindi 1 quindi ho che VB ha le stesse componenti di VA in questo caso rispetto alla base B ma questo non stupisce perché avevo scelto V uguale a 2 nella base B il vettore B2 coincideva con il vettore A2 quindi che esprima il V rispetto alla base A o rispetto alla base B le sue componenti rispetto alle due basi non sono identiche perché appunto il vettore A2 coincide con il vettore B2 ma in generale non succede così in generale le componenti cambiano adesso abbiamo VB che è il vettore delle componenti di V rispetto alla base B quello che ci manca in questo calcolo per poter fare questo calcolo e calcolare WB ci manca FB ma noi sappiamo come calcolarci FB perché FB è alfa alla meno 1 FA per alfa l'avevamo scritto sopra era una delle tre leggi speriamo di non fare pasticci dove è finita eccola qui FB uguale alfa alla meno 1 per FA per alfa quindi andiamo a utilizzare questa espressione e facciamo quindi questo prodotto matriciale allora scriviamo qui per avere un po' di spazio alfa alla meno 1 1 0 meno 1 1 FA era meno 0 meno 1 1 0 e poi abbiamo ancora da fare per alfa e quindi 1 0 1 1 allora facciamo prima per esempio il prodotto associativo prodotto di matrice associativa non importa che facciamo prima il prodotto della matrice più a sinistra per la matrice centrale e poi il prodotto risultante per l'ultima matrice facciamo proprio così facciamo il prodotto della matrice alfa alla meno 1 per F di A allora cosa viene il prodotto riga per colonna prima riga per prima colonna 1 per 0 più 0 per 1 è semplicemente 0 quindi prima riga per per questa colonna poi prima riga per seconda colonna verrà fuori un meno 1 mi torna provate provate a farlo voi contemporaneamente vediamo se poi i risultati coincidono seconda riga per prima colonna sarà un 1 perché fate meno 1 per 0 più 1 per 1 e poi c'è il prodotto della seconda riga per la seconda colonna sarà meno 1 per meno 1 che darà 1 più 1 per 0 che darà 0 e quindi tutto viene 1 quindi questo è il primo prodotto alfa alla meno 1 per F di A il tutto va ancora moltiplicato per 1 0 1 1 che è proprio la nostra matrice alfa e allora qui cosa viene fuori viene fuori prima riga per prima colonna verrà fuori meno 1 prima riga seconda colonna verrà fuori ancora meno 1 è 0 per 0 più meno 1 per 1 quindi verrà meno 1 seconda riga per prima colonna verrà 1 per 1 più 1 per 1 cioè quindi 2 e infine la terza la seconda seconda riga per seconda colonna 1 per 0 più 1 per 1 che darà 1 questa è proprio la nostra FB adesso andiamo a calcolarci WB avete vi torna avete ottenuto lo stesso risultato se si stesso risultato perfetto WB FB VB e quindi viene fuori meno 1 meno 1 2 1 per 0 1 che sono le componenti di VB e questo viene fuori facciamo questo prodotto meno 1 perché appunto prima riga per 0 1 viene meno 1 per 0 più meno 1 per 1 quindi viene meno 1 e qui abbiamo invece 2 per 0 0 più 1 per 1 1 e quindi questo è il nostro VB quindi il nostro vettore WB il nostro vettore in sé quindi non in componenti sarà ricordate questo è espresso rispetto alla base B meno P1 più B2 vediamo se per caso graficamente la cosa ci torna quindi torniamo sul disegno in alto sul disegno in alto questo era l'effetto della rotazione che mi portava il vettore A2 in meno A1 vediamolo qui allora abbiamo che l'effetto della rotazione che mi portava il vettore lo disegno tratteggiato qui quindi questo è quello che si ottiene per effetto della rotazione e nella base B meno B1 più B2 allora meno B1 prendete questo vettore e ne fate il suo inverso e quindi andate in questa direzione se vedete guardate il puntatore del mouse va in questa direzione quindi questo sarebbe meno B1 più B2 B2 se ne va in questa direzione il vettore è parallelo a questo vettore qui e quindi terminate esattamente in questa posizione quindi la differenza tra meno B1 e cioè la somma meno B1 più B2 vi dà esattamente lo stesso vettore che avete ottenuto lavorando con invece la base A e se uno non è convinto di questo ed è giusto che non lo sia vediamo dal punto di vista algebrico che cosa che cosa viene fuori allora io so che avevamo scritto che VB adesso possiamo scriverlo in termini di W era uguale a alfa la meno 1 WA il che vuol dire anche che WA l'avevo scritto per il vettore V ma naturalmente questo vale anche per il vettore W il vettore WA sarà alfa WB quindi proviamo a vedere se otteniamo lo stesso vettore con le stesse componenti del vettore WA che abbiamo già ottenuto prima lavorando soltanto sulla base A quindi scriviamo che WA è il prodotto della mia matrice alfa 1 0 1 1 per questo vettore WB che è meno 1 1 allora prima riga per la colonna viene meno 1 per meno 1 1 meno 1 più 0 quindi meno 1 e seconda riga per la colonna meno 1 per 1 cioè meno 1 più 1 per 1 1 e quindi la somma mi da 0 e vedete che il WA che ho ottenuto che corrisponde proprio al vettore che abbiamo chiamato meno 1 questo quindi questo vettore W che è meno A1 cioè proprio quello che abbiamo ottenuto prima quindi il nostro WA da qualche parte ci sarà e proprio il vettore meno A1 quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto questa operazione di rotazione espressa da due matrici che esprime il nostro endomofilio F una rispetto alla base A quindi quella che ho chiamato F di A e l'altra rispetto alla base B quella che ho chiamato F di B volendo vedere in maniera grafica questa cosa abbiamo il vettore W A facciamo la rotazione usando la matrice F di A e ci porta in W A quindi abbiamo fatto W A uguale F di A moltiplicato a sinistra per via questa è una via l'altra via che abbiamo seguito è dire ok passiamo da W A W B usando la matrice alfa poi da qui usando F B abbiamo ottenuto il W B e poi usando la alfa ancora o la sua diciamo la alfa la meno 1 siamo passati a riottenere W A quindi abbiamo fatto un circuito in due modi diversi noi abbiamo seguito questa via iniziale ma lo stesso risultato lo possiamo ottenere in maniera più complessa diciamo un sacco di passaggi in più però era giusto per fare un esercizio in cui esprimiamo tutto rispetto alla base B e quindi siamo passati da via al vettore V B attraverso la matrice del cambiamento di base su V B abbiamo ottenuto W B usando la matrice che rappresenta l'endomorfismo rispetto alla base B e poi siamo tornati sulla base A quindi a rirappresentare il vettore W nelle componenti rispetto alla base A e siamo arrivati in alto all'estero del grafico questo si chiama anche diagramma commutativo i matematici usano spesso queste notazioni per questi diagrammi per spiegare in maniera grafica i passaggi che si fanno non ne faremo molto uso ma diciamo in questo caso può chiarire un po' i vari passaggi che abbiamo fatto qual è la logica dei passaggi che abbiamo fatto allora posso chiedere solo una cosa certo ma la matrice FA sì come l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata andando a scrivere prima quali sono gli effetti dell'endomorfismo dove l'ho scritto qua su in alto l'effetto dell'endomorfismo sui vettori della base quindi ho voluto costruire un'applicazione lineare che prendesse il vettore A1 e me lo portasse in meno A2 e prendesse il vettore A2 scusate qui era lo stesso errore di prima che ho corretto nel grafico ma ma poi non l'ho corretto nella formula quindi avete anche ragione voi perché cancelliamo questa cosa che scriviamo prendiamo il vettore A1 e voglio che il vettore A1 diventi il vettore A2 e il vettore A2 che diventi il vettore meno A1 ok? così mi spiego le componenti della matrice ok si aveva ragione corretto il grafico ma non ho corretto le forme in questo modo arriviamo a scrivere la matrice A dopodiché l'abbiamo trasformata secondo il cambiamento di base allora ritengo un attimo ne riscrivo qua sotto la matrice fa rinnotare una cosa la matrice FA è la matrice 0 meno 1 1 0 ed FB è la matrice meno 1 meno 1 2 1 verifichiamo solo che sia proprio così per la FB ok meno 1 meno 1 2 1 allora notate una cosa e un'anticipazione diciamo poi di quello che faremo poco più avanti allora il determinante della matrice FA chiamiamo DET di FA è uguale a 1 perché fatete calcolare il determinante molto rapidamente per la matrice bidimensionale fate il prodotto degli elementi lungo la diagonale principale 0 per 0 meno il prodotto degli elementi lungo la diagonale secondaria quindi meno 1 per 1 da meno 1 ma poi mi cambiate di segno e quindi fate 1 quindi 0 di fatto più 1 e quindi il determinante è 1 la stessa cosa vale per la FB il determinante della FB sarà uguale a meno 1 per 1 meno 1 meno meno 1 per 2 quindi meno 1 per 2 da meno 2 col meno davanti diventa più 2 quindi meno 1 più 2 mi dà 1 allora il determinante della FB è esattamente uguale al determinante della FA questo non è un caso poi mostreremo in maniera più in maniera rigorosa se vogliamo che nel cambiamento di base il determinante delle matrici rappresentative del nostro endomorfismo non cambia è un invariante il determinante di una matrice rappresentativa di un endomorfismo è invariante rispetto al cambiamento di base c'è poi un'altra quantità importantissima che è invariante e che è la traccia la traccia della matrice FA è la somma degli elementi lungo la diagonale principale 0 più 0 quindi trascurate tutti gli altri elementi il meno 1 qui e l'uno qui fate semplicemente la somma degli elementi lungo la diagonale principale e ottenete 0 0 più 0 è 0 e la traccia della matrice FB scusate questa era FA non era scritto così la traccia della matrice FB anche questa è 0 perché sarà la somma degli elementi lungo il diagonale principale meno 1 più 1 è 0 allora come vedremo tra breve anche la traccia di una matrice rappresentativa di un endomorfismo è indipendente dalla base quindi poi cambiate la base cambia la forma della matrice la matrice questa FA è evidentemente diversa dalla FB ma la sua traccia rimane costante e la stessa cosa appunto accade per il determinante allora abbiamo due invarianti importantissimi per noi poi in tutto il discorso sulle simmetrie abbiamo due invarianti che sono il determinante e la traccia della matrice allora su questa cosa sul comincio diciamo probabilmente riusciamo anche a terminare questa parte il teorema di invarianza della traccia quello che cominciamo a determinare il teorema di invarianza della traccia di una matrice rappresentativa di un endomorfismo rispetto al cambiamento di base allora non mi sogno neanche di chiedervelo all'esame però ve lo faccio vedere appunto è un teorema centrale quindi a noi servirà molto e come vi consigliamo di fare tutte le volte che dovete affrontare uno di questi problemi formali e quando cominciate una dimostrazione o un qualunque ragionamento specificate sempre il contesto in cui operate quindi questo vi aiuta a fare mente locale allora abbiamo a che fare con un endomorfismo e un endomorfismo agirà su vettori di un certo spazio vettoriale quindi cominciate a dire abbiamo un certo spazio vettoriale e poi avete bisogno di due basi una base a tutte cose che ho già scritto sopra ma le riscrivo proprio perché focalizziamo l'attenzione questa è una base a e una base b perché vogliamo parlare poi di un cambiamento di base quindi ho bisogno di almeno due matrici due sistemi di vettori due basi poi avrò un endomorfismo quindi un f che appartiene all'un endomorfismo insieme agli endomorfismi su e quindi una cosa che ci fa passare da vettori di e in maniera lineare a vettori che sono ancora di e e abbiamo scritto quali sono le componenti di questi endomorfismi rispetto alle diverse basi e siamo arrivati ad una scrittura che io adesso riscrivo vado a memoria poi dopo controlliamo che tutti i limiti siano giusti abbiamo questa matrice alfa del cambiamento di base quindi questa era b uguale a per alfa la matrice che alfa che rappresentava il cambiamento di base della base b e della base a alfa j i f k j e poi ci sarà l'alfa chiamiamola per evitare di scriverci una alla meno uno chiamiamola beta perché non sta a cancellare ok anziché chiamare l'alfa la meno uno usare alfa la meno uno uso la matrice beta che è uguale alla alfa la meno uno solo per evitare di avere un alla meno uno che dà fastidio nelle scritture delle formule lk quindi questa beta la matrice beta è equivalente all'alfa la meno uno è la stessa cosa e appunto ho suonato a memoria controllo un attimo gli indici allora abbiamo gli indici di sommatoria muti j e j k e k e gli indici liberi che sono iel l in alto nell'espressione di destra se dovrebbe avere in alto anche l'espressione di sinistra e in basso abbiamo l'indice a sinistra e a destra quindi confido sul fatto che questo sia un'espressione corretta notate non mi sono preoccupato adesso di scrivere l'alfa la meno uno a sinistra e l'alfa a destra dell'espressione perché non sono interessato per adesso a a scrivere tutto questo in forma matriciale quindi non mi importa come abbia quale sia l'ordine che do ai fattori che sono scritti nel lembro di destra dell'equazione adesso vogliamo fare la traccia della nostra matrice Fb la traccia della nostra matrice Fb questa è la somma degli elementi lungo la diagonale principale della matrice Fb e quegli elementi sono quelli che ho chiamato appunto F tilde voglio sommare gli elementi lungo la diagonale principale cosa posso fare nella notazione di Einstein contrarre qui rientra il termine contrarre l'indice L con l'indice I significa li rendo uguali per esempio scrivo FII qui ho i due indici l'indice muto I ripetuto in alto e in basso non importa che sia su fattori diversi come qui ho nell'espressione sopra ho il J indice muto che però sta in alto su alfa e in basso sull'F l'operazione di sommatoria di sommatoria implicita nella notazione di Einstein non distingue il fatto che l'indice muto sia su fattori differenti della combinazione di A può anche stare sullo stesso fattore quindi questa roba qui significa nient'altro che F1 1 più F2 2 più F3 3 più Fn e quindi è proprio la traccia della matrice perché la nostra matrice Fb quando andiamo a fare la sua traccia la scrivo un attimo questo sarà F1 1 gli elementi lungo la diagonale principale saranno questi F N N e gli altri sono tutti altri fattori altri numeri con indici di riga di colonna differenti ma gli elementi lungo la diagonale principale sono quelli che hanno lo stesso indice di riga di colonna e quindi F I quindi facendo questa cosa qui faccio proprio la mia sommatoria cancello solo questo perché da fastidio mi porto via spazio quindi cosa devo fare per fare questa operazione semplicemente contrarre gli indici L e I anche nell'espressione dall'altra parte nell'espressione di destra e quindi avrò ancora alfa J I F K J e poi questo beta adesso appunto contraggo I con L quindi questo mi diventerà I K scriviamolo così beta portiamo a sinistra il beta I K alfa J I F K J ok quindi ho portato il beta a sinistra e prima posso anche far dopo non ha nessuna importanza contraggo l'indice L con l'indice I che vuol dire li rendo uguali adesso notate che qui io ho avrei voluto scrivere sì non è corretto dal punto di vista va bene questa scrittura ma dal punto di vista matriciale non mi tornava quindi facciamo prima l'alfa alfa J I beta I K adesso io so che questa roba qui questa la beta è la matrice inversa dell'alfa e io sto facendo il prodotto riga per colonna quindi adesso lo vado a scrivere proprio in maniera esplicita dico che la mia beta è proprio questa ricordo il fatto che la beta è l'inverso dell'alfa quindi lo vado a scrivere qui dentro e sto facendo vedo che sto facendo il prodotto riga per colonna della matrice alfa per la sua inversa ma il prodotto riga per colonna dell'alfa per la sua inversa mi deve dare la matrice identica cioè la matrice che abbia elementi delta il delta di Kronecker J K poi scrivo ancora questo K qui sto sommando questo è l'indice muto che ho qui è l'indice I quindi scompare quando ho fatto la mia la contrazione quindi ho fatto la mia sommatoria e gli indici liberi che mi rimangono sono il J il K il J in alto e il K in basso quindi questi due indici me li devo ritrovare esattamente in questa posizione con quei nomi lì perché sono gli due indici liberi di questo di questo prodotto mentre l'indice I è quello che se ne va perché è l'indice muto poi so anche che alfa per alfa la meno uno mi deve dare la matrice identica quindi la matrice che ha come elementi i delta di Kronecker perciò l'unico modo che posso fare diciamo l'unico modo che ho corretto per esprimere questo prodotto qui è scrivere delta J K ma allora guardate nell'espressione finale io ho una sommatoria su due indici muti il J e il K e quindi posso sommare su uno dei due per esempio posso sommare rispetto al J sommare rispetto al J significa lo scrivo ancora una volta in maniera esplicita significa fare delta 1 K F K 1 più delta 2 K F K F K 2 più ci sarà un termine in cui il K l'indice J è uguale al K quindi avrò un delta K K F K K più eccetera eccetera fino al fondo in cui otterrò un F N K delta N K F K N tutti questi termini in cui l'indice J è diverso dal K K se ne vanno via perché il delta di Kronecker è 0 l'unico termine che si salva è quello con delta KK per cui questo vale 1 delta di Kronecker delta KK uguale 1 e quindi tutto mi risulta uguale a F KK ok ma cos'è F KK è una sommatoria degli elementi lungo la diagonale principale della matrice F A traccia di F A l'indice muto che sto usando qui è il K sto sommando su K ma questo non fa e l'indice muto che usavo qui era lì ma questo non fa nessuna differenza perché come ho detto già più volte gli indici muti possono avere i nomi che vogliono quindi scompaiono tanto alla fine che lo chiami K non cambia assolutamente niente riconosco qui l'indice muto che si ripete in alto e in basso quindi questo applico la notazione di Einstein questo vuol dire sommatoria di tutti gli F lungo la diagonale principale di tutti gli F della matrice F A e quindi questa è proprio la traccia di F A allora cosa abbiamo ottenuto che la traccia di F B è uguale alla traccia di F A teorema di invarianza della traccia quindi quello che abbiamo visto diciamo empiricamente sopra lavorando sulle matrici F A e F B che avevano la stessa traccia ce lo andiamo a ritrovare ridimostrato in maniera rigorosa quindi usando la notazione di Einstein ce lo troviamo in maniera rigorosa deve valere sempre questo è uno dei caposaldi del formalismo che poi useremo per descrivere le simmetrie come vedete le simmetrie le possiamo descrivere con matrici differenti a seconda della base che usiamo quella che sarà poi la base reticolare una base reticolare ci porta a una rappresentazione delle matrici che esprimono rotazioni poi ci saranno anche le riflessioni una base reticolare diversa porterà a matrici rappresentative che sono diverse ma quello che rimane costante è per esempio la traccia delle diverse matrici questo ci aiuterà poi a scrivere il formalismo la prossima volta lunedì vi faccio anche il teorema del determinante in realtà quello fa riferimento al determinante ovviamente voi sul determinante sarebbe da fare un discorso che non vi posso fare perché non abbiamo neanche gli strumenti per farli per adesso e poi sarebbe un discorso un po' troppo lungo non voglio esagerare con questi aspetti diciamo che dando per scontato una serie di cose che voi già sapete sul determinante la dimostrazione dell'invarianza del determinante sarà una cosa molto rapida però entrambe quella della traccia era elegante era facile da far vedere con quello che abbiamo messo giù quindi ve l'ho fatto vedere va bene se non ci sono se ci sono domande potete farle adesso altrimenti diciamo per oggi chiudo qui